E' uno degli atti propedeutici al bilancio di previsione che questa volta l'amministrazione comunale e gli uffici tecnici del comune vorrebbero predisporre ben prima degli ultimi mesi dell'anno come invece spesso accaduto. La Giunta ha approvato il piano delle alienazioni e valorizzazioni 2021 che riguarda anche il triennio fino al 2023. Il provvedimento è passato su proposta pervenuta dal settore patrimonio del municipio. Anche gli uffici del bilancio comunque sembrano intenzionati ad accelerare per chiudere prima possibile quello previsionale. Un auspicio amministrativo più volte indicato dall'assessore Danilo Giordano nel piano approvato dalla Giunta sono allegate le tabelle che riportano l'indicazione degli immobili destinati ad essere valorizzati anche con affidamenti a terzi oppure alienati in base alle estime presuntive il municipio nel triennio potrebbe incassare quasi 560 mila euro solo per quelli da cedere. Nelle schede si indicano inoltre gli alloggi popolari destinati ad essere ceduti definitivamente alle famiglie che ci vivono ormai da decenni ma anche i beni confiscati ad esponenti di organizzazioni mafiose e poi passate al patrimonio comunale. In ogni caso le procedure di cessione o valorizzazione dovranno rispettare il regolamento approvato ad inizio febbraio e portato in consiglio comunale dalla commissione affari generali che ha lavorato su modalità precise e regole certe anche per evitare l'eccessiva discrezionalità nell'affidamento troppo spesso registratasi a palazzo di città. Il piano passerà in consiglio comunale in attesa del bilancio di previsione degli altri strumenti finanziari.